Musica Dura presa di posizione del capogruppo dei riformatori sardi, liberal democratici in consiglio regionale Attilio Dedoni, sull'intimazione di sfratto dell'amministrazione provinciale di Oristano nei confronti del Consorzio 1. A causa dell'ennesimo scontro all'interno della sua classe politica, l'oristanese rischia di perdere un'altra opportunità di sviluppo e rilancio del territorio, la diatriba tra il commissario straordinario e i vertici dell'università non è che l'ulteriore dimostrazione del male atavico che ci penalizza, ha dichiarato Dedoni. Tale caso è emblematico, una sede che garantisce un'offerta formativa di primordine, i cui laureati hanno un tasso di occupazione superiore a quello dei loro colleghi formati sia Cagliari o a Sassali, che permette a tanti studenti di frequentare le lezioni con una spesa di dotta per gli spostamenti e di risparmiarsi i disagi di un trasporto ferroviario pressoché inesistente, che contribuisce attivamente allo sviluppo culturale ed economico locale, dovrebbe essere per il territorio e per i suoi rappresentanti un'eccellenza da tutelare e continuare a far crescere. Invece ci troviamo ancora a discutere di locali, di contratti, di canoni, di locazione, con l'aggiunta ai limiti dell'assurdo di una provincia che sfratta, da un proprio edificio, un consorzio di cui essa stessa è socia. L'università non è che l'ultimo dei casi che pesano sulla coscienza della classe politica oristanese, ha concluso Dedoni. Sono molte le opportunità perse per l'insipienza di chi, amministrando il comune e la provincia di Oristano, non fa nulla per portare avanti le istanze del territorio e anche di qualche consigliere regionale che preferisce badare ai suoi interessi personali anziché a quelli della sua comunità. Sono già programmati per l'inizio di febbraio i lavori di deviazione della condotta che alimenta Nuragini Eddu e che interseca la strada statale 292, a renderlo noto la società Abanoa. Come già avvenuto per i precedenti interventi nello stesso cantiere stradale, si legge in una nota diffusa dal gestore idrico, Abanoa è chiamata a risolvere i problemi progettuali dell'intervento portato avanti dall'amministrazione provinciale di Oristano. Purtroppo Abanoa è stata coinvolta soltanto quando sono stati aperti i cantieri e non nella fase di progettazione. La definizione degli interventi relativi alla rete idrica, infatti, sarebbe dovuta essere preventivamente affrontata nelle conferenze dei servizi che precedono di norma i lavori che hanno riflessi su diversi sottoservizi. Ciò nonostante Abanoa si è messa a disposizione della provincia e, nello spirito della massima collaborazione, ha già portato avanti tre grossi interventi di deviazione dell'acquedotto di Oristano. Si tratta di interventi complessi con forti ricadute sul servizio all'utenza, conclude la notte, e per poterli realizzare è necessario effettuare un contratto ad hoc. L'iter è andato spedito e all'inizio di febbraio l'intervento sarà effettuato. Via Libera, nuovi interventi per un totale di 40 milioni di euro all'interno del piano regionale infrastrutture. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore dei lavori pubblici Paolo Maninchedda. La disponibilità dei 40 milioni è dovuta alla decisione di spostare all'interno del patto per l'isola il finanziamento di alcune opere inizialmente inserite nel piano finanziato col mutuo. A causa della complessità di procedure e della necessità di tempi di realizzazione più lunghi, alcuni interventi del mutuo rischiavano infatti di essere definanziati e dunque di restare incompiuti, ha affermato Maninchedda. L'esecutivo ha perciò deciso di proteggerli con i finanziamenti del patto firmato a luglio con il governo. I nuovi interventi spaziano dal completamento di alcuni apalti già in essere alla soluzione di situazioni di totale emergenza, soprattutto crolli e frane, per le quali ci è arrivata richiesta di intervento entro il 23 novembre. Stiamo ratopando l'isola, intervenendo di volta in volta nelle situazioni più urgenti per poi passare alle opere a più ampio respiro. Il patto, ha concluso l'assessore, inizia a liberare risorse del mutuo infrastrutture e garantisco che tutti gli interventi previsti verranno finanziati e realizzati. Domani, 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale in commemorazione delle vittime dell'Olocausto e per celebrare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa, si terrà alle ore 18, presso l'Aula Consigliare del Comune di San Verumilis, un consiglio straordinario organizzato dalla Giunta. Nell'occasione l'amministrazione riceverà in dono la medaglia d'oro di Cosimo Orru, consegnata dalla nipote Cristina Orru. Cosimo Orru, giudice sanverese morto durante la Seconda Guerra Mondiale, venne confinato in un campo di concentramento come prigioniero politico. È un esempio, si legge in una nota diffusa dal Comune di San Verumilis, non solo per i suoi concittadini, ma per l'onestà intellettuale nella sua professione e la difesa della verità, anche a costo della propria libertà e vita. Il Paese, si legge sempre nella nota, vive il giorno della memoria con sentimenti di commozione civica e affettiva. Per ricordare e non dimenticare una parentesi buia della storia dell'umanità è che ha colpito San Verumilis con diversi caduti in guerra nei campi di concentramento ed anche civili per l'esplosione di un residuo bellico della Seconda Guerra Mondiale a conflitto già finito. Per queste ragioni si è arrivate alla diciottesima edizione ed è i giorni della memoria, due settimane di iniziative che vedono coinvolti in primis le scuole dell'Istituto Comprensivo. Il tour nazionale sulla disabilità passa anche in Sardegna. La prima tappa è in programma ad Orgali. La seconda, sabato 28 gennaio alle 10.30, al Teatro San Martino di Oristano, in via Ciutadella di Menorca. Il tour si concluderà sempre sabato a Cagliari. L'obiettivo è porre in evidenza la complessità, anche oggi presente, del processo diagnostico-valutativo, assistenziale, psicopatologico, del disabile e della famiglia, dell'inclusione scolastica e dei processi di abbattimento di ogni ostacolo che impedisca la loro piena integrazione sociale. I tre incontri, moderati dal docente Juan Guidi, vedranno come relatori lo psicologo Elpidio Cecere, Francesca Troiano, psicologa e psicoterapeuta, tanti professionisti sardi e figure del settore che illustreranno diverse tematiche. Grazie a tutti! Grazie a tutti!